Destinare Palazzo Stanga di Via Palestro Museo sarebbe il primo del genere in Italia stamattina sopra luogo, oggetto della visita e recupero e la valorizzazione di questo importante palazzo che il Marchese Stanga lasciò alla scuola di Agraria. Conoscere intanto il patrimonio che la scuola ha e poi per cercare di valorizzare quella che è stata la storia dell'Istituto Stanga. Siamo voluti venire a vedere quello che è la meraviglia che ha lasciato alla scuola per l'istruzione agraria e questo è importante come patrimonio nostro ma anche patrimonio della città. L'idea è quella di creare un museo dell'istituzione agraria legata però alla figura del nostro magnate. Vorremmo fare una proposta per riutilizzarlo ma tenendo conto dello scopo con cui è stato donato e quindi sarebbe riaccessibile alla città ma attraverso anche un percorso di musealizzazione legato alla scuola e legato alla storia dell'agricoltura nella provincia di Cremona. La scuola attraverso questo recupero desidererebbe rivedere una rinascita anche di quelle che sono le radici e la storia dell'agricoltura nella nostra provincia. A breve termine c'è un altro progetto. La notte dei musei ma facendo vedere questa meraviglia cittadina che noi abbiamo che attualmente è un po' sottotono. A Palazzo, al pian terreno, c'è l'istituto professionale e restano da valorizzare i piani nobili. Il piano nobile attualmente cerca ancora una destinazione ad essere. Tranne per un pezzettino che la fondazione comunitaria occupa e il resto l'appartamento del preside e il piano nobile sono ancora qui senza una destinazione certa.